raga lui ci fa compagnia sono le 10 e 10 ancora vanno bel po prima della fine dell'anno e noi già siamo attrezzati con questo che ci fa la compagnia questo è spaccato perché mia moglie ha controllato ha mangiato ha mangiato andiamo a assaggiare devo comprare quella cosa apposta per spaccare è venuto proprio come se fosse niente davvero mamma se è salato mamma mia che spettacolo c'è ancora della polpa e qua come faccio qua ti spacca a metà io ho messo in conto che devo controllare se l'alimentario dopo ho comprato questo qua ne ha qualche rimanenza perché non riusciranno mai a venderlo tutto c'erano anche il granchio 3 4 volte più grande di questo che vi faccio prima fatto vedere per il momento guardate che qua il shoju al kiwi non sottovalutate queste lattine perché ci sta il 4% di alcol all'interno da là fuori let me show you can record 30 38 secondi 38 secondi 38 33 raga 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 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo siamo io e mia moglie che sta riprendendo il pupo si è addormentato mia figlia si è addormentata sopra siamo solo noi mi facciamo danni 16 15 18 13 12 1 2 16 9 9 9 9 10 10 20 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Anno a tutti, a questa parte del mondo, felice anno nuovo a tutti quanti, un abbraccio a tutti, grazie per essere qua, a voi manca un altro poco, ma mangiate e rilassatevi.